Ciao tesori, buongiorno e benvenuti ad un nuovo video Allora Passaggieriamo tutte queste caramelle che vendono in un negozio molto strano E ho trovato pure le gelli Qua Quanti qua Allora, io vorrei subito iniziare da... Quelle, oh, allora adesso ve la faccio vedere bene E' una mini Gumball Machine Ok E' adorabile e funziona davvero Tu giri e... Io vado quella rossa 3, 2, 1 Le cose che ti piacciono le mettiamo da questa parte La gomma mattina è più bella del mondo Mettiamo della parte buona Oh mio Dio Wow Wow Next C'è lo spray, vai Va schifo tanto? Questa Questa è super sour Ma sei lì, sei blu Ma si fa la lingua blu Oh mio Dio, ma devo anch'io per forza Mi viene da affittare con quelli Mi piace quindi la metto dalla macchina Assaggiamo questo Aspetta Aspetta che sto salivando Aspetta 5 minutes light off Adesso assaggeremo questo hamburger Oddio, ho tutto a fuoco Sto andando a fuoco Oddio, senti quanto sono calda Sto andando proprio a fuoco Oddio Oddio, mi fa troppo schifo Lo so che non si dice del cibo Perdonatemi ma No, questa è veramente Oddio Non si vede perché sono truccata Ma vi giuro Sto andando a fuoco Mini panino Allora, iniziamo ad assaggiare il pane Va bene Perché io mi ostino a fare assaggi di caramelle Quando mi piace di caramelle Non mi piace Buonissimo Sembra tipo marshmallow Marshmallow alla fragola Adesso l'insalata Poco poco più duro Eh, ma magari fosse insalata vera Vi giuro io preferisco le verdure Alle caramelle Perché mi danno massicli ai denti È più buono questo Rispetto a quello Formaggio Ma vede I morsi sono più grandi Nel mio idea La carne Che bello Posso sfutare? Non c'è pesca, te lo dico No ragazzi, sono per me No, ma È buono Sì, buono Buono, benissimo Questi occhi Oh mio Dio, quelli dell'ultima volta Questi facciamo veri Ok, io direi di aprire questo qui Io direi di aprire questo qui Che è della casa La casa dei papel Sì, io e mio marito ci siamo visti La casa dei papel In tre lingue diverse Finché non è uscita l'ultima stagione Per quanto ci piaceva Oddio, scappa Oddio, che bello Apri, apri Me l'hai sentita Zoe Che bello Ma sono bellissime Vabbè, questi sono i classic Chupa Chups Cherry Anguria Ah, questa è mia Ma la tengo qua Ma la tengo qua No, ma che buona questa Ok Mi sa che questa è Limone Ah no, limone Ciccato Io adoravo quella alla vaniglia Mi piaceva da morire Alla vaniglia? No, non c'è la vaniglia Io adoravo quella alla vaniglia e fragola Erano i miei clienti O vaniglia e cioccolato Questo Me li devo comprare da Amazon Quelli di vaniglia e cioccolato Allora, iniziamo Allora, guarda Ho trovato un altro mini hamburger Questi, quindi li assaggiamo dopo Ok Questi E poi li ha Che carini Mmm, però piccoli Buono 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 with the next Wow Questi saranno super sauer Guarda che ho preso Oh mio Dio, che figli I lombrichi Con Tutto Così Bello Figo Oddio che belli questi Ah, questi Berris Questi dovrebbero essere Fantatti Oddio Non vedo la disa Aspettare questi No, eh, 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 eh 3, 2, 1 Ah Non so se la vuole Quando ero piccola Mia nonna Mi dava sempre Quelle caramelle Al lampone E al Assaggiamo prima Quelli rossi Ok Andiamo Quelli neri erano i miei preferiti Vediamo Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Sì Grazie No 3, 2, 1 Questo è sour Mmm Mi ha dato la cosa sour Sono buoni per essere sour 3, 2, 1 Cos'è? Wow Mamma occhio Esploso? No Non riesco a fare esplodere Cos'è? Sai? Io voglio fare una pazzia Tanto già non riesco a fare esplodere E comunque sono pulite Quindi tranquilli Pazzia Proprio in quelli Riprovo così Il sole me li leva tutti Mamma no Ti esplode Ma non riesco Vada Guarda Guarda Oh regà non riesco Ho paura Ma proviamo quella lamela? Regà Non riesco Perché tu riesci o no? Perché tu Non ho il tavolo All'arancia E io non lo assaggiano nemmeno con l'arancia Quindi Io dovrò assaggiare L'uva Ma che sto facendo? Mamma arancia Sta facendo finta di mangiarlo Guarda guarda Assaggia arancia E mamma assaggia arancia No l'arancia no mamma Aspetta L'arancia proprio no Cosa vai ecco Io vado con questo Mamma sta esplodendo davanti Avvicinati al tavolo Mamma Da questo lato Ma a me non c'è l'occhio C'è l'occhio E questa cosa che c'è dentro Che proprio non fa per me raga Guarda Bene Andiamo con i chupa chups Io l'ho già preso Io vado di Fragola dai Quanto mi mancava quello alle fragole Aspetta non riesco a dirlo però Papà Papà Dimmi Sta assaggiando le cose anche lei Papà Papà Vieni Aspetta Papà Ma senti come ti ti ama Papà Ti chiamo proprio Papà Papà Amore mio Oddio ti esplosa Ti esplosa in gola Butta la terra No Tutto per terra No Non ce l'ho Mi sono finiti qui Comunque io assaggio questo intanto Questa è la fragola E' buonissimo Ne rubo un altro io Questa è l'anguria Assaggiare La prima caramella di Zai Com'è? Voglielo di Zai Guarda 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 Che? Che ha fatto? Ti ho messo persa? Che non te la possono dire Guarda Guarda Che carina Ma stai a farmi scuglio Bleh Che Bene Questa è molto buona Comunque tesori Guarda Guarda Lara sta facendo le tranne delle altre mie Tre Va bene Va bene tesori Noi come sempre ci vediamo nel video di domani Ore 18 Sempre qui Sempre su questo canale Con Un video molto bello Affidati A domani Love you Ciao a tutti 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 Grazie.